La Teatro dei Servizi, la società totalmente partecipata dal Comune di Chieti che gestisce la riscossione dei tributi e di parcheggi a pagamento dopo il fallimento decretato dal Tribunale di Chieti, è passata nelle mani del curatore nominato dai giudici ed ora alle prese con la studio dei libri contabili consegnati dal liquidatore per cercare di salvaguardare i livelli occupazionali. Personalmente ho mandato una richiesta di colloquio con il curatore, probabilmente mi risponderà a giorni perché lui è il perno principale di questa vicenda e nelle sue possibilità chiedere al Tribunale la possibilità di un esercizio provvisorio sarà nelle prerogative del Tribunale accettare o meno questa proposta, è evidente che per il Comune di Chieti l'esercizio provvisorio sarebbe un dato molto importante perché permetterebbe ai dipendenti di Teatro dei Servizi di continuare il loro lavoro per un periodo di tempo necessario per preparare quindi nelle more della gara di affidamento del servizio riscossione. Se ciò non avvenisse certamente i problemi sarebbero più importanti sia per l'ente comunale che deve assicurare una continuità di flusso finanziario, di flusso di cassa e soprattutto per i lavoratori della società partecipata dichiarata fallita. Una cosa voglio dire e ribadita anche durante il tavolo con i sindacati, qualunque convenzione, qualunque rapporto dovessimo siglare con una società esterna che sostituisca Teatro dei Servizi, noi includeremo la clausola di salvaguardia. Questo principio è stato già sancito in un incontro con il prefetto già l'anno scorso e quindi sotto questo punto di vista noi possiamo rassicurare i lavoratori che la nostra parte come ende comunale la faremo.